Meno burocrazia per l'energia pulita, stop al consumo di suolo, per un vero diritto all'aborto, la decriminalizzazione del sex work legalizzando il lavoro sessuale, crediti verso lo Stato, complessivamente 60 miliardi, utilizzabili dalle imprese per pagare le imposte, reddito minimo di inserimento per contrastare la povertà. Sono le sei proposte di legge di iniziativa popolare dei radicali italiani. A Pescara, nella Sala Consigliare del Comune, la presentazione dell'iniziativa ha finalizzata la raccolta di almeno 50 mila firme per ogni proposta di legge entro i prossimi sei mesi. Noi facciamo le leggi di iniziativa popolare anche perché in questi anni è cambiato il regolamento al Senato, c'è l'obbligo di discussione e votazione. Dopodiché noi partiamo da un presupposto che è quello storicamente radicale, cioè che la politica non solo si fa all'interno delle istituzioni, ma come dice la Costituzione lo si fa anche tra i cittadini attraverso il referendum e le leggi di iniziativa popolare. 17 milioni di persone che non sono andate a votare il 25 settembre del 2022 per noi sono un grande campanello d'allarme. Come abbiamo fatto sempre, noi crediamo che le persone, i cittadini, debbano partecipare alla vita politica dell'Italia. Falla fuori la legge Italia, lo slogan scelto per la campagna dei radicali italiani. I temi sono così importanti che crediamo che possano interessare alla maggior parte dei cittadini italiani. Ne vedremo tra dicembre e gennaio quante firme avremo raccolto, ma noi siamo sicuramente ottimisti anche perché c'è la possibilità di firmare online attraverso il sito radicali.it slash firma. Purtroppo è a pagamento perché i governi non hanno attuato quello che dice la legge, cioè la piattaforma pubblica che ancora non c'è dopo un anno e mezzo.